L'amministrazione comunale di Priolo Gargallo, guidata dal sindaco Pippo Gianni, interviene anche quest'anno a sostegno dei cittadini diversamente abili, garantendo il trasporto gratuito nei centri di riabilitazione convenzionati per lo svolgimento di prestazioni riabilitative in regime semi-residenziale. Le istanze per usufruire del servizio potranno essere presentate direttamente presso la sede del comune di Priolo Gargallo. Il bando, fa sapere il sindaco, rimarrà aperto per tutto il 2024. I destinatari del servizio sono i portatori di handicap autorizzati e certificati dall'ASP di Siracusa, residenti a Priolo Gargallo. Le domande dovranno essere presentate entro dieci giorni dalla data di autorizzazione da parte dell'azienda sanitaria per l'inserimento al centro di riabilitazione allo sportello front office del comune di Priolo nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Il comune di Priolo, tra l'altro sensibile alle problematiche dei disabili, nei giorni scorsi attraverso la Polizia Municipale ha aderito alla piattaforma CUDE, contrassegno Unificato Disabili Europeo. La piattaforma, come ha spiegato il sindaco Gianni, consente ai cittadini di presentare la propria istanza per l'inserimento del veicolo in uso ai disabili, così da agevolarne gli spostamenti ed evitare sanzioni automatiche quando si attraversano a bordo della propria auto i varchi di zone a traffico limitato o pedonali in tutti i paesi europei.